Tra tutti i dodici cavalieri d'oro c'è un segno che si identifica, si segnala, si mette da parte per il suo spirito fortemente autonomo. Non è un ribelle, è fedele per lo più ad Atena, ma è un segno, un cavaliere molto indipendente che tende spesso a fare di testa sua seguendo il proprio metodo di giustizia. E si tratta dei cavalieri dello scorpione. Ora, noi abbiamo avuto quattro cavalieri dello scorpione principali nelle varie serie. Nella serie classica c'è ovviamente Miro, Scorpio, in Next Dimension c'è Escalate, in Lost Canvas c'è Cardia e in Omega abbiamo avuto Sonia. E questi quattro personaggi all'apparenza non hanno assolutamente niente in comune. Se infatti andiamo a vedere un po' il ruolo percorso, Scorpio tutto sommato è sempre stato un cavaliere fedele ad Atena e anche quando ha seguito il grande sacerdote lo ha fatto perché ingannato ed era uno di quei pochi cavalieri d'oro che in effetti aveva anche dei dubbi sul sacerdote, al punto che poi salva la vita a Crystal proprio perché non è del tutto convinto di star facendo la cosa giusta. Cardia in Lost Canvas è a sua volta fedele ad Atena, ha una problematica cardiaca per la quale già sa che non vivrà lungo e quindi il sogno della sua vita è trovare un avversario contro cui combattere con tutte le forze fino a far bruciare il suo cuore al massimo. Sonia viene nominata cavaliere di Scorpio da Mars e Medea, non è ancora pronta, è quasi una succube degli eventi, combatte contro Soma del Leone Minore dove poi perde la vita. E infine Escarlate, a seconda di come si pronunci, è un personaggio di cui al momento sappiamo ancora abbastanza poco ma è questo curioso cavaliere dotato di invisibilità che sembra, a meno da quello che dice nella sua prima apparizione, più fedele al cavaliere di Ofiuco che gli ha salvato la vita dandogli il vereno dello scorpione rendendolo invisibile che non la Tenea stessa. E come dicevo in apparenza, questi quattro cavaliere sembrano non avere niente in comune, però se scaviamo un pochettino più in profondità, quello che emerge sono proprio quattro personaggi che tendono a fare molto di testa propria e tendono sì ad essere fedeli ai rispettivi signori, soprattutto Atena, ma anche Mars e nel caso di Escarlate parrebbe Ofiuco, però tendono molto a fare di testa loro, sono sicuramente dei personaggi molto autonomi dalle personalità forti e che non stanno lì ad obbedire in silenzio agli ordini ma se c'è da prendere l'iniziativa, se hanno dei dubbi non li ignorano ma li perseguono. Infatti se andiamo a guardare meglio per esempio Scorpio, come detto nella serie classica all'inizio nominalmente è fedele al grande sacerdote, combatte per il grande sacerdote contro Crystal, Sirio, Pegasus, nell'anime va anche sull'isola di Andromeda ad uccidere Albione, è il primo che viene convocato da Arles, però è anche il primo a indicare di avere dei dubbi circa la vera natura del sacerdote, è famosa la scena in cui mentre Arles si allontana Scorpio guarda di spalle e si chiede se davvero si può fidare di un uomo così. Seguendo questi dubbi Scorpio poi salva la vita a Crystal e una volta scoperta la vera identità di Arles giura fedeltà ad Atena. Ma anche quando è fedele ad Atena Scorpio comunque è fedele ma mai obbediente. Per esempio se ci spostiamo alla serie di Ade quando Canon si trova nelle istanze di Atena Scorpio decide di testare la sua fedeltà, il suo pentimento e lo tortura con una cuspide scarlata. Isabel Atena gli ordina di fermarsi ma lui l'ignora e continua ad andare avanti. Il che non è un comportamento comune tra i cavalieri perché si tratta comunque di un ordine diretto della Dea ma in quel momento Scorpio segue se stesso, segue le sue idee e quindi continua a torturare Canon finché poi non è convinto che il pentimento del cavaliere sia effettivamente spontaneo. Questo non vuol dire che Scorpio sia un ribelle, un traditore. Per esempio dopo la battaglia della Sesta Casa, quando Atena ordina di portare i gemini Capricorn e Aquarius da lei, Scorpio comunque obbedisce. Quando Atena gli ordina di non uccide le gemini, lui comunque si ferma, quindi non è completamente ribelle. Ma è comunque un cavaliere con una personalità molto spiccata e questo si vede per esempio anche in Senseia Soul of Gold quando pur di non attendere l'arrivo di Muur, pur di fare di testa sua, sacrifica la vita per abbattere la barriera attorno ad Igrasir. Oppure poco prima quando affronta il falso Crystal dicendo che anche se quello fosse il vero Crystal, lui comunque lo affronterebbe perché ormai ha una strada da seguire e non permetterà niente a nessuno di fermarlo. Quindi un altro esempio di personalità molto decisa, molto motivata. In Episodio G è ancora uno Scorpio molto bambino e non è un caso che sia quello che maggiormente litiga e batti becca con Ioria, visto che sono entrambi quelli un po' meno obbedienti, un po' più autonomi, un po' più indipendenti e quando due personalità così simili poi si trovano in contrasto ovviamente ci scappa il litigio, nonostante ci sia molto rispetto reciproco tra i due. Se ci spostiamo a Cardia, le interazioni di Cardia con Atene sono più limitate, però per esempio nel suo Gaiden, nel Gaiden dello Scorpione, scopriamo che Cardia aveva incontrato Sascha pur non sapendo che Sascha era Atene, aveva comunque presa di peso e se aveva portata in Sud America o in America Latina dove poi vivono l'avventura del loro Gaiden. Ora in questo caso Cardia agisce un po' inconsapevolmente perché non sa che Sascha è Atene, ma fatto sta che quando vede una bambina comunque disperata che comunque si sente prigioniera nel santuario non esita ad agire di sua iniziativa e a portarla con sé in viaggio e anche durante tutto il Gaiden vediamo un Cardia che comunque si affronta i nemici che ha davanti ma fa sempre fondamentalmente quello che vuole fare, non agisce mai per obbedienza o per dovere ma semplicemente perché così gli va. La stessa cosa succede nel Lost Canvas regolare durante la battaglia ad Atlantide, Cardia lascia proseguire Dagger per affrontare Wille ad Amante e afferma proprio che il sogno della sua vita è questo, quello di morire contro un avversario potente contro il quale far bruciare il suo cosmo e il suo cuore al massimo. Ovviamente Cardia è fedele alla causa di Atene, anche in questo caso non è un nemico della Dea, però ha una sua motivazione, un suo obiettivo personale molto forte che intende perseguire fino alla fine al punto da affidare la missione a Dagger, rimanere indietro e poi combattere contro la Damante contro il quale alla fine muore, si esaudisce il suo desiderio, brucia tutta la sua vita e dopo essere riuscito a salvare Unity praticamente viene dato per morto. In Sensei Omega Sonia è un caso simile ma diverso, nel caso di Sonia questa personalità molto forte che comunque mostra durante tutta la prima parte di saga, quando agisce come Martian del Cavabrone e non ancora come Cavaliere dello Scorpione, finisce poi per venire meno quando viene nominata Scorpio da Medea. Sonia è un personaggio molto tragico la cui personalità è sì forte ma è anche succube di poteri ancora più forti, tant'è vero che alla fine muore in circostanze particolari quando perde il controllo dell'armatura d'oro, non ha ancora un cosmo adeguatamente potente per questa armatura e quindi finisce per essere uccisa dal potere della sua stessa corazza. Nel caso di Sonia la morte arriva un po' come una liberazione, non potendo, non essendo convinta della bontà delle sue azioni, delle sue intenzioni, avendo fino a quel momento agito per dovere, limitando in qualche modo la sua personalità, è schiacciata da vari sensi di colpa, alla fine Sonia sceglie la via della morte per diciamo porre fine alle sue sofferenze. E anche in questo caso abbiamo quindi un personaggio che è fedele alla causa ma è fedele a modo suo e seguendo dettami e idee particolari. Infine Scarlet, quello di cui sappiamo di meno, perché è comparso finora soltanto in qualche capitolo del Next Dimension, però ecco da questi capitoli dei flashback si vede questo personaggio destinato a morire, salvato poi da Ofiuco, e che come gratitudine per essere stato salvato da Ofiuco combatte contro Sirio l'Ottava Casa e in generale non sembra affatto interessato alla difesa di Atena, al dovere di Cavaliere d'Oro, ma soltanto a ripagare questo debito verso Ofiuco, al punto da dire a Sirio che quando Ofiuco risorgerà, Will si schiererà dalla sua parte. Ora non abbiamo ancora avuto al momento di questa registrazione l'incontro tra Ofiuco ed Scarlet, quindi bisognerà vedere cosa poi effettivamente accadrà tra i due. Finora tutti i Cavaliere d'Oro che Ofiuco ha incontrato si stanno ribellando decidendo di servire e proteggere Atena. Bisogna capire se succederà la stessa cosa anche con Scarlet o se sarei il primo che effettivamente seguirà le sue idee fino alla fine, passando dalla parte di Ofiuco. Probabilmente mi aspetto che alla fine gli si ribelli perché comunque i Cavaliere di Scorpio non sono mai davvero nel torto. Quando sono nel torto è sempre una cosa temporanea, è sempre causa dell'inganno di qualcuno, ma non è un segno che solitamente si associa ai traditori del Grande Tempio, quindi mi aspetto che alla fine faccia la scelta giusta, ma questa è soltanto un'ipotesi. Un'altra cosa da paragonare tra questi Cavaliere di Scorpio è l'aspetto. Ovviamente, come tipico di Lost Canvas, Cardia ha lo stesso aspetto di Miro dello Scorpio classico. Scarlet ha un aspetto diverso, questi capelli rossi e soprattutto la capacità di rendersi invisibile, mentre Sonia, ovviamente in quanto femminuccia, ha un look totalmente diverso e anche alcune modifiche dell'armatura. L'aspetto di Scorpio, dello Scorpio classico, è un po' il classico aspetto curumadiano o arachiano. Capelli lunghi, espressione determinata, personaggio dalle espressioni molto astute, molto aguzze. Non a caso Scorpio può essere nobile e rispettoso verso l'avversario, ma non si pone neanche problemi a irriderlo o anche a farlo soffrire più del dovuto se si rende conto di avere davanti a sé nemici in una rosa altezza. Ricordiamoci, per esempio, come si comporta con Sirio e Pegasus all'ingresso nell'ottava casa, o poi con gli Spectre nella serie di Lost Canvas. Per quanto riguarda i colpi segreti e tecniche, non c'è granché da dire. Tutti gli Scorpioni principali usano la Cuspide Scarlatta, lo Scarlet Needle, che poi culmina nella quindicesima puntura Antares. Cardia ha una sua versione, lo Scarlet Needle Katakaio e Antares Katakaio, che praticamente usano questo calore, queste fiamme del suo cuore per incendiare o comunque dare una forte sensazione di dolore bruciore al nemico. L'unica e un pochettino diversa è Sonia, che ha tecniche da un nome che ricordano un po' quelle classiche, ma non sono la stessa cosa, però i colpi di Sonia non vengono mai mostrati davvero in fondo. Quando sta per lanciare il più potente, cioè vantare Smelstrom, poi perde il controllo dell'armatura e muore. In generale, le tecniche dello Scorpione sembrano tutte quante concentrate su questi colpi numerosi, venti, che non uccidono l'avversario in una botta sola, però lo fanno soffrire progressivamente fino a portarlo alla resa o alla folia. Se è necessario, però sappiamo bene che Scorpio può lanciare più Cuspide in una in modo da accelerare gli esiti del combattimento. Tutti questi comunque sono fattori secondari. La cosa principale di questo personaggio, di questo segno, la cosa che più lo lascia impresso, è il carattere, questo spirito forte, determinato, autonomo, che lo fa camminare in questa linea tra i buoni, ma non tra i più obbedienti. È evidente che lo Scorpione non è una rieta, per esempio, non è un personaggio che china sommessamente la testa ad Atena, ma se combatte per la giusta causa, ma a modo suo e facendo di testa sua. Voi cosa ne pensate dei Cavalieri di Scorpio? Qual è il vostro preferito? Chi non viva proprio giù? Scrivetelo come sempre nei commenti qua sotto. E da me questo è tutto. Alla prossima, ciao!